Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo. Nel corso di questo venerdì andremo incontro a un progressivo cambiamento del tempo su parte d'Italia. Si avvicinerà infatti una circolazione di bassa pressione alimentata da correnti più umide di origine atlantica che darà luogo a un peggioramento in particolare sulle isole maggiori, inizialmente sulla Sardegna e nella seconda parte della giornata anche sulla Sicilia. Nubi in aumento anche sul resto dello stivale ma senza il rischio di piogge. Notate la nuvolosità infatti che risulterà più compatta in prossimità delle isole maggiori. Annuvolamenti di scarsa consistenza sul resto d'Italia, prevalente carattere stratiforme. Vediamo tutti i dettagli relativi alla nostra penisola con un aumento delle nubi che come dicevo poc'anzi porterà delle piogge tra il mattino e il pomeriggio sulla Sardegna. Acquazzoni che poi nella seconda parte della giornata transiteranno anche sulla Sicilia. Prevalenza di bel tempo sul resto d'Italia con qualche nuvole in più ma di scarsa consistenza. Le temperature saranno in leve diminuzione sulle isole maggiori, valori stazionari altrove. Per tutti i dettagli scaricate come di consueto l'app di Trebi Meteo per smartphone e tablet.